buongiorno a tutti i telespettatori di classe mc e benvenuti all'interno dello spazio dedicato al segmento growth di borsa italiana euronext quest'oggi abbiamo il piacere di ritrovare paolo pesceto di redfish long time capital buongiorno pesceto allora dobbiamo parlare un po dell'ultima news perché eravamo venuti qua a suo tempo l'ultima volta parlate no l'aumento di capitale no perché le questioni di prezzo cioè non voglio dare è arrivata l'obbligazione sì e quindi sai in periodo di mercati che languono si fa venire le idee si parla con gli investitori con la nostra base di investitori che è molto importante soprattutto world manager in family office e sentendo anche un poi timori il ritracciamento dei tassi di interesse quindi finalmente anche effettivamente si abbassano questi tassi di interesse dall'altra parte c'è sempre qualcuno che quindi aveva investito parecchio in btp in fixed income che vede questo tipo di flussi diminuire allora ci è venuto l'idea di venire fuori con un'obbligazione di breve periodo 36 mesi un bond che abbiamo chiamato 6 per cento redfish long time capital proprio perché ha un rendimento fisso del 6 per cento ma la più grande novità che proponiamo è la cedola mensile ovvero il fatto che tutti i mesi c'è il pagamento degli interessi sul conto corrente questo è piaciuto tantissimo agli investitori poi abbiamo fatto un site di investimento di 25 mila euro quindi alla portata diciamo sai che noi amiamo essere chiamati private equity democratico no quindi in questo caso siamo diamo l'accesso con alcune difficoltà che abbiamo avuto nel renderlo appunto così fruibile e però appunto quindi cedola mensile breve periodo 36 mesi e interessi diciamo appunto del 6 per cento che sono sicuramente con il nostro rating ricordare sicuramente che noi abbiamo un rating mood finance a 3 che quindi abbastanza solido questo ci permette quindi di scavallare questo periodo un po di in cui come avevamo parlato altra volta un aumento di capitale diluirebbe vecchi soci abbiamo ricordiamo un patrimonio netto a 1 59 fare aumenti di capitale sotto 1 59 l'azione lì che viaggia tra 1 20 e 1 25 ci fa soffrire parecchio consapevoli che la base di partecipate è solida da dei buoni risultati che saranno confermati che quest'anno questo bond ci permette di scavallare un po' i risultati di fine anno arrivare in tarda primavera avere comunque della benzina per continuare gli add-on continuare anche nuovi investimenti devo dire che le prime battute perché proprio fresco fresco la stima la scorsa e quindi ti ringrazio di essere stato con questo tempismo appena posso cavalcare la notizia io subito sei il primo che diciamo la comunica e quindi sostanzialmente chi vuole essere curiosito da questo strumento che ovviamente è riservato anche ai nostri investitori ma allargato con offerta quanto puntata che accogliere 15 milioni 15 milioni sarà la portata dai sì sì sarà su un ricordiamo che noi abbiamo una base di equiti di 45 milioni ben al di sopra anche della valutazione capitalizzazione dell'azione questo può sono dolori siamo in buona compagnia ma noi cerchiamo sempre anche di essere gli innovatori chissà che mai altre aziende delle gm vogliono seguire questo esempio di ricorrere al debito anche in una fase molto propizia perché questi tassi calanti di rendimenti quindi un btp che andrà entro sei mesi probabilmente a dare un rendimento sotto 3 per cento poter fissare oggi perché un tasso fisso 6 per cento almeno per 36 mesi salva i tuoi risparmi mi piace la cedola mensile perché sto notando io tratto anche nella parte più operativa del nostro programma i certificati e oramai le emissioni sono quasi tutte con cedole mensile perché quello non è stata una nostra idea noi l'abbiamo già fatto due anni fa perché nell'ambito di un deal dovevamo acquisire una quota che poi non siamo riusciti ad acquisire perché era una quota di minoranza e il rimanente compagni ha fatto la prelazione quindi siamo rimasti così però diciamo la nostra controparte ha guadagnato diciamo ha incassato 20 milioni quindi era uno target abbastanza così allora noi mi hanno detto investi qualcosa in res ma io con elezioni non è che questa dimestichezza eccetera mi piacerebbe più qualcosa con un rendimento siamo sicuro mesi allora ti facciamo un bond 6 per cento così che protegge l'inflazione eccetera è un buon investimento sì sì però io adesso perderò il compenso che avevano i cdi e quindi più o meno un compenso da 10 mila euro al mese e quindi l'azienda era un'azienda grande peccato che non l'abbiamo fatto perché poi ha performato molto bene no non ho contato investimento privato quindi l'on ter che noi investiamo in non quotate poi magari capitano ci arrivo piano piano il care quindi è stata roba sì e vabbè lei ha detto ma no perché sempre questo sostituisce no questo compenso no ma per fare 10 mila euro ho detto guarda 10 mila euro per 12 120 mila euro c'è la tassazione del 26 per cento quindi 156 mila euro quindi il 6 per cento calcolare devi investire x milioni e ho detto sì vabbè ho capito però sì vabbè ti arrivano 120 diviso 12 ma non è uguale cioè avere 10 mila è diverso da avere 120 mi devo gestire così no e ho detto vabbè chi se ne frega questa cifra divido per 12 faccio un bonifico mensile e ho detto ah grazie tantissimo e quindi ha investito poi raccontandolo a un altro investito ho detto ma guarda un po che strano al mondo no perché all'epoca tre anni fa erano tutti cedere massimo trimestrali certo ma è successo questa cosa esatto e ho detto ma è veramente ridicolo dai come la stessa 120 all'anno 10 al mese la stessa ma dai così pagandolo a questo investitore mi guardavo con gli occhi a pari fa ma veramente puoi fare un bond con c'era mensile e sì e no perché sai anch'io anche io sono interessato gli servirebbero quei due o tre mila euro in più per cosa c'entra ma cosa devo investire per avere questi due cioè non è che ho da parte 100 mila 200 mila quindi te li metto quanto devo investire per avere questo rendimento in più no ma è banale uno vuole un rendimento in più di 100 200 euro che poi si dica le spendo e il capitale non le intacco e abbiamo visto che questo tipo di ragionamento semplice immediato è molto più diffuso e molto più comune come lo raccontiamo piace poi magari uno investe 25 mila 50 mila si guadagna i 100 euro in più al mese i 200 euro in più al mese gli italiani sono tutti i panni dividendo cedola è vero è vero e poi non devono entrare nella complicazione perché anche noi a volte siamo complicati di capire il refis aerospaziale non dormono la notte ma no voglio dire no voglio dire questo è sempre questo è facile mi rimborsa capitale che poi il refis e le borse vanno su giù ha investito in aerospaziale sarà bene o male almeno uno dice e abbiamo scoperto che effettivamente diciamo questo tipo di investitori sono anche i nostri investitori che non l'avevo mai interrogati sul debito invece sono i primi che ci danno soddisfazione perché loro stessi poi hanno diversificato il loro portafoglio tra asset class più rischiose e più redditizie come le aziende sulle gm e i bond tipicamente btp ma oggi che i rendimenti sono decrescenti c'è questa opportunità di inserirsi e prendere una fettina di quel mercato a noi fa bene ci permette di scavallare questo aumento di capitale che ci arrovelavamo come fa e quindi poi tranquillamente tutti felici dai la soluzione win win come si dice sia voi che gli azionisti non vengono diluiti che probabilmente gli azionisti ci hanno messo anche la loro la fish sì 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 ma i primi l'abbiamo fatto i primi sono i nostri azionisti infatti non è che abbiamo fatto un battaglio poi in realtà devo dire che parlando anche con asset manager eccetera effettivamente il prodotto si poteva allargare alla base si sta iniziando allargare perché noi comunque lo terremo aperto per un bel periodo le sottoscrizioni partono dalla scorsa settimana adesso questa settimana diciamo lunedì formalmente e chiuderanno a giugno a giugno dell'anno prossimo e mano a mano facciamo raccolti cinque milioni facciamo un'emissione raccolti cinque milioni in altre missioni a 36 mesi perché così io devo anche diciamo tutelare l'on term che una scadenza di cinque milioni è programmabile va bene 15 milioni da rimborsare e quindi ce la scadenziamo e quindi avremo sostanzialmente questo bond anche lì la struttura l'abbiamo fatta in modo intelligente che in realtà è un bond da cinque anni che quindi copre tutto il periodo anche le scadenze ulteriori che verranno emesse però redimibile quindi il l'investitore ha una put diciamo a 36 mesi per riscattare noi abbiamo una call a nostro avviso anche perché penso che a 36 mesi il 6 per cento saranno veramente tanti soldi regalati perché se le cose vanno così come stanno andando oggi è un tasso devo dire abbastanza corretto leggermente più alto rispetto a quello che è il nostro rating un 5 5.2 sarebbe più corretto però sai che poi gli investitori bisogna sempre attrarli dagli qualcosina di più quindi il 6 per cento per noi è nell'ambito delle nostre economics sicuramente visti anche i rendimenti attesi delle aziende sottostante tutte che stanno andando in modo positivo ci permette poi quindi di accontentare non diluire gli azionisti attuali ma continuare a investire tutto questo col buyback ancora in atto buyback di due milioni sì che ci sta dando abbastanza soddisfazione perché noi riteniamo che avendo il patrimonio netto 1.59 comprando intorno a 1.20 e 1.25 facciamo il bene di chi rimane la liquidità ne abbiamo ancora anche prima del bond ma ci mettiamo sempre avanti per continuare allora se fate un bond con la struttura tutto quello molto interessante di cui abbiamo discusso però solitamente quando si fa il bond vuole mettere un po' di fiero in cascina per investire in cosa? adesso lo dico a te mi arrivano mi mettono la sua carriera no beh c'è sicuramente allora andiamo a vedere un po' il portafoglio così vediamo un attimino la prendo la larga allora andiamo a prendere il sito di Redfish long term capital eccolo qua grazie mille alla regia che me l'hanno già messo qua sotto allora andiamo a vedere un po' il portafoglio così vediamo un po' cosa c'è in esse Expo Inox che avevamo parlato a suo tempo quando eravate entrati Expo Inox stiamo facendo degli add-on e ne è stata annunciata una anche settimana scorsa è un'azienda però che ha ottimi flussi di cassa se li sta finanziando con per linee interne solid conosciamo conosci e anche perché poi anche se ci abbiamo investito quando non era quotata rimane quotata sì voi siete entrati a un prezzaccio mi sorride vogliamo dire il nostro maestiere il nostro maestiere però era pre-IPO cioè ragazzi non si sapeva ancora insomma è stata una scommessa esatto esatto tesi sono questi sono interessanti tesi aerospaziale siamo ancora in una fase questo il progetto è diviso in due fasi poi non ti sto a dire no no prego io sono curioso il progetto è diviso in due fasi allora la società aveva avuto una forte crisi dal covid perché è legata molto a Boeing Airbus che avevano sospeso di fatto la vendita degli aeromobili e siccome il ciclo è un po' lungo l'aerospaziale questa crisi si è vista poi nel 2021-22 e le previsioni erano che il 24 fosse l'anno in cui si riprendevano gli stessi volumi precedenti purtroppo la catena del valore che è molto frammentata nell'aerospaziale fa sì che oggi i volumi di richieste di chi diciamo degli operatori da EasyJet a Ryanair piuttosto che di Ryanair sia tornata come prima del covid anzi forse anche recuperando il trend perché comunque il trend è in i viaggi va con la popolazione con il progresso e quant'altro però il covid che ha fatto cadere parecchi operatori ha fatto sì che non ci sia la struttura produttiva in grado di quindi anche se Tesi è in salute e può deliberare di più però devono esserci tutti i pezzi non si può consegnare l'aereo per cui quest'anno sicuramente raggiungerà diciamo i target che si erano prefissati anche perché si è approfittati per diversificare però non ancora il regime c'eravamo dati insieme a Invitalia che è nostro coinvestitore la chiusura del bilancio del 25 per fare questa prima fase dopodiché c'è un accordo appunto con la famiglia che o si vende o compriamo noi dire se c'è una decisione da prendere però è ancora c'è questa prima fase che comunque c'è un frattempo si ha portato comunque noi siamo entrati intorno ai 3 milioni di bidac dovrebbe arrivare a 6 diciamo nel piano al prossimo anno quindi è un po' di valore si è creato non è non attraverso ad on ma attraverso questo ci accontentiamo del raddoppio dai per linee interne convergenze la conosciamo la conosciamo penso che hanno record come già annunciato sulla semestrale che sta continuando penso che rosario poi l'amministratore legato nonché maratoneta fa un po' troppo in maratone potrebbe pensare un po' di più a fare acquisizioni noi spingiamo spingiamo si no qualcosa bolle in pentola potrebbe ogni tanto fare anche qualche scattino perché forse queste acquisizioni non arrivano mai però è una società piena di cassa che quindi non fa bene diciamo che nel nostro portafoglio questo è l'assegno circolare che cresce lì lento lento questi mi piacciono Movinter Movinter è un progetto che quant'è che me li portate in borsa? Io li voglio vedere in borsa non in questo contesto ok va bene no vabbè questo progetto tra l'altro abbiamo acquisito anche il 4% rimanente quindi adesso siamo al 100% perché era parte del management che tra l'altro ha fatto il passaggio di consegne a Simone che è il nuovo amministratore delegato di Movinter lì quest'anno abbiamo iniziato l'anno scorso che fatturava 22-23 milioni quest'anno arriveremo a 60 grazie a due donne lì stiamo partendo donne un po' di benzina di quel bond andrà a finire a Movinter che ha una piccola don a breve e qualcosa di grosso che bolle in pentola per il 2025 lì il progetto è di arrivare a 100 milioni già con il 60 siamo il primo fornitore diciamo nella catena produttiva italiana nei treni a differenza dell'altra quotata che conosci benissimo nell'ambito del railway diciamo è un po' più monoprodotto noi abbiamo scelto un'integrazione orizzontale lavorando anche con gli uffici acquisti di Itacea insomma è una strategia che loro ci hanno appoggiato che abbiamo in realtà copiato dall'aerospaziale l'esperienza che abbiamo fatto dall'aerospaziale ci ha fatto capire che esiste una sinergia tra materiali e quindi qui faremo qualcosa Pure Labs e siamo in aumento di capitale lì siamo anche un investor lo faremo fare in club deal a terzi investitori c'è del movimento ovviamente Polieco anche lì c'è del movimento ma è una società che ha finanza anche questi sono interessati ma loro non hanno bisogno no 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 quanto non avete adesso di Polieco? adesso purtroppo solo il 15% mentre si torna la biaga e va bene era il massimo che era disponibile questi sono i famosi tubi acquisiremo i tubi c'è anche la parte resine che però lì è scalabile internamente e i chiusini che forse cerchiamo di fare no vorremmo questa storia del chiusino intelligente mentre c'è dentro un RFID fare una cosa un po' più tecnologica anche grazie a un po' diciamo sono tutte idee che Polieco devo dire se ne crea anche da solo manager fantastico azienda con un cash flow incredibile questa dovrebbe andare in borsa al prossimo anno quindi io no questa è desiderata questa è una bella questi fatturano un sacco quanto è che siamo di fattura? 205 con 45 di EBITDA ammazza un cash flow di 35 su 45 un cash conversion non ci aveva mai visto ma veramente e poi ci troviamo bene apertura mentale devo dire disponibilità a ragionare in acquisizioni da diciamo da 100 metrista non da maratonetta un po' più veloci ma loro sono forti sono forti no no c'è e poi ecco la Saiep invece questa Saiep è una donna molto fortunata questa è nuova è l'ultima arrivata l'abbiamo acquisita giugno luglio è una donna di Movinter fa parte di quella crescita da 20 a 60 va molto bene questa fa la parte elettrica quindi carrozza parte metallica parte diciamo di materiali compositi ma poi se tu sei lì seduto e vuoi infilare la presina devi avere chi ti mette la presa la cablatura i controlli e quindi stiamo cercando c'è ancora tanta strada da fare di non dico one stop shopping perché c'è tutta poi ovviamente la meccanica altre cose eccetera però sulla carrozza treni metropolitane avere dei assemblati abbastanza avanzati che permetterà anche un controllo della qualità elevato quindi il concetto che è entrato Leonardo è stata costretta a fare a chiedere queste integrazioni di materiali molto prima perché l'aereo spaziale ovviamente sulla controlla qualità è arrivato molto prima ma l'alta velocità che sta arrivando a performance e richieste un po' equivalenti sta spingendo i player a creare una qualità che però arriva dagli assemblati se siamo n aziende diverse mettere insieme poi i pezzi è diverso se io ti consegno e quindi all'interno riesco a farti un semilavorato ti riesco a dare una qualità al millimetro non al micro in aerospaziale ma al millimetro abbastanza e quindi vuol dire che non sento scricchioli nel treno poi alla fine nella pratica e riesco ad andare a velocità sempre più alte ci porta lì la tecnologia Paolo Pescetto Redfish Long Term Capital è sempre un piacere mi diverto sempre quando viene lei Pescetto e mi racconta tutto ma io ti seguo tu sei un maestro e quindi è troppo gentile grazie tante e ci vediamo magari facciamo il punto sulle nuove acquisizioni che verranno quando è mi raccomando chiamate benvenga per adesso raccogliamo sul bond sendo felici tanti amati del fixed income e poi confido la mensile concedola mensile questo è interessante voglio capire poi magari ci rivediamo fra un paio di mesi così vediamo come sta andando raccolta del buon concedola mensile perché secondo me quella tira piace grazie mille Paolo Pescetto grazie a tutti